buongiorno e buon weekend allora anche oggi facciamo i messaggi gli angeli della divinazione questa carta è la numero 3 è l'angelo dello stress lo stress della tua vita non grava più su di te liberatene oggi hai scelto questa carta perché il tuo angelo dello stress vuole inondante inondarti di calma e serenità a volte ti lasci coinvolgere così tanto dalla tua vita da dimenticare di fare un bel respiro e liberarti dallo stress il tuo angelo è qui per aiutarti a ricentrare la tua anima e a riportare la calma nella tua esistenza quando permetti allo stress di dominare la tua vita perdi contatto con la conoscenza spirituale e la consapevolezza il tuo angelo si è fatto avanti per mostrarti come osservare la vita da una prospettiva diversa invece di considerare le tensioni e le sfide che ti vengono proposte come negative guarda a questo periodo di stress come un'occasione per apprendere e capire chiediti che cosa mi sta insegnando questa situazione ti sta sfidando ad ascoltare la tua guida prima di prendere una decisione ti sta suggerendo che hai bisogno di essere più organizzato e concentrato in certi ambiti della tua vita chiedi al tuo angelo ciò di cui hai bisogno per cambiare ora osserva la situazione stressante e immagina che la questione sia già risolta percepisci l'angelo dello stress che ti toglie questo fardello dalle spalle in cuor tuo sappi che ogni volta che lo stress inizia inizia a crescere e a influenzare la tua mente il tuo corpo e il tuo spirito il tuo angelo saprà sempre sarà sempre accanto a te non devi far altro che chiedere il suo aiuto l'affermazione di questa carta è non permetterò più che lo stress domini la mia vita lo vedo come un percorso che mi guida verso una migliore comprensione di me stesso mi congedo scusate oggi proprio non è giornata mi concedo il tempo per sedermi e ricentrarmi quando sento che lo stress mi danneggia ora sono libero dallo stress e sereno questo è il messaggio di oggi degli angeli vi auguro una buona giornata